Benvenuti su Club PG Passione Games, buona domenica a tutti! Anche questa settimana finisce, ma non può finire senza un nuovo video con il buone football ma è appuntamento diciamo limitato solo ad un episodio della settimana poi più avanti ritorneremo in auge anche con qualche partita per provare qualche giocatore che nel frattempo ha arricchito la rosa del Club PG Passione Games quindi insomma il team Allora, diciamo che a brevissimo, cosa c'è scritto? Ha iniziato la partita? Sincronizzazione, io entro dentro il gioco solamente una volta a settimana dicevo, tra le novità di questa settimana è stata svelata la data del nuovo aggiornamento o meglio del nuovo, senza un pack come si dice, cioè del nuovo, della nuova versione e dovrebbe essere, dovrebbe, uso il condizionario perché sapete con football, con Konami nello specifico diciamo la sicurezza, la sceltezza non è ovviamente cosa di loro e praticamente ora poi ne parleremo anche di questa videata intanto ci diamo un po' di luce perché sia una semplice ok, dicevo appunto che il, c'è una data, se non sbaglio, il 2326 di marzo quale appunto stock del nuovo aggiornamento con la nuova, del nuovo pass all'interno del gioco ora il discorso è, ma questo l'abbiamo già affrontato qualche tempo fa non ci saranno le tanto attese modalità che qualcuno diciamo sperava di avere del tipo la modalità della master non c'è, si parla, tanto la luce si sta accedendo ragazzi io ho diciamo il controllo scene che non è un controllo scene praticamente però dicevo appunto ci sarà forse autunno ma anche più logico che ci sia così ad autunno perché di fatto ora non ha molto senso che venga messo appunto un pacchetto relativo alla master quindi autunno è la cosa più giusta secondo me poi tra le altre cose c'è da capire anche il mondo videoludico del calcio come si svilupperà per la stagione 23-24 perché non ci sono ancora grandi certezze l'unica certezza è che non ci sarà più FIFA 24 tra il Gato Ye ma ci sarà forse un FIFA 24, non lo so quindi secondo me non ci sarà un FIFA by Konami questo è quasi certo però Infantino nella sua Infantino sapete che è presidente della federazione mondiale del calcio ha annunciato che il prossimo FIFA sarà un FIFA top e parlando appunto FIFA 24 e quindi molti chiaramente pensano ma Konami ha acquisito diciamo la licenza di FIFA molto improbabile ragazzi molto improbabile però la cosa certa è che o perlomeno di certo ripeto su Konami non c'è niente è che appunto la Master sarà una delle opzioni che potremo valutare, vedere, giocare e divertirsi da settembre, ottobre sempre se verrà confermato niente ci saranno alcune cose che poi magari nel prossimo video le affronteremo però andiamo nello specifico a vedere che è successo questa settimana intanto diciamo debuttiamo subito con questa J-League la Lega giapponese con prevalenza di giocatori nipponici che appunto vestano le maglie delle squadre più basso diciamo più in del campionato giapponese e appunto ora il primo questo Juncker non crede essere giapponese ma se riguarda il nome non è giapponese ma tutto il resto Nagato, Isako, Mikigawa, Zuzuda, Ito Ito forse è quello un pochino più famoso e poi Usami, Watenabe, Seigigawa, Sasaki e riproduci il video vediamoci questo benedetto video vediamocelo e magari togliamoci anche di mezzo noi col faccione così lo vedete in maniera più completa anche se molto probabilmente l'avete visto lungo e largo perché insomma questo c'è da qualche giorno sulla piattaforma e all'interno del gioco quindi sapete che uno dei campionati esclusivi è anche la Lega giapponese e quindi puntano molto ci sono alcuni giocatori europei o comunque i giocatori che hanno calcato i campi delle più famose squadre o comunque delle titolate squadre europee ora non me ne sovviene nessuno però vedete anche dalla schermata dal punto di vista rappresentativo in ogni squadra c'è sempre ora in questa no avete visto subito sbugiardato però c'è sempre qualche giocatore che non è proprio nipponico quindi qui da punto di vista ovviamente ritorneremo sui campi di Konami come vi ho detto anche nell'epitodio della settimana scorsa qui c'è Iniesta che ovviamente ormai è da diverso tempo che gioca in Giappone Giappone che è stata tra le altre cose anche meta di atti conclusivi di alcuni giocatori importanti italiani negli anni 90 mi viene in mente il Totowski Lasci che se non sbaglio ha giocato gli ultimi anni della sua carriera proprio per fadulire parliamoci chiaro proprio nel campionato nipponico ecco poi questa videata noi ci sono sempre l'abbiamo già vista per dire la verità ora la ripropongo in lungo o largo con quelli che sono i giocatori appunto delle squadre delle squadre appunto partner ovviamente ci sono alcuni giocatori ragazzi che oggettivamente dal punto di vista grafico quindi della rappresentazione sono decisamente migliori rispetto alla concorrenza avete visto Karaskaya Karaskaya Askaya ma anche Rashford Giroud sono ovviamente rappresentati decisamente meglio rispetto alla alla concorrenza attuale di FIFA a proposito di concorrenza poi noi seguiamo sempre no le le gesta del dell'alternativa che poi appunto ne parleremo magari leggiamoci poi all'inizio della stagione di te back to the club è iniziata il tema di questa stagione è back to the club con la fine della contessa all'inizio dell'orgoglio nazionale i giocatori sono trovati dal loro rispetto questo l'abbiamo già l'abbiamo già l'abbiamo già letto se vi ricordate bene però insomma ce lo ripropone il boing football qui le monetine noi gli ho trovato la posta 100.000 GP ok 10.000 ok quindi la nuova stagione è iniziata e quindi noi di fatto abbiamo mai giocato evento previsto allora saranno disponibili gli svariati eventi sfida e gli eventi turni in linea con il tema della stagione di tre in questi eventi potete mettere le mani su monete di football programmi aumento livello e altri oggetti come previsto inizio previsto il 16 poi per quanto riguarda il cammino spagnolo poi la lega giapponese il 20 le squadre nazionali il 23 la lega BBVA il 27 capito inglese il 30 di nuovo la lega giapponese il 3 e il campionato italiano il 6 di il 3 di aprile il 6 di aprile il campionato italiano e poi le squadre nazionali il 10 quindi diciamo a cadenza ogni tre giorni ci sarà queste tra virgolette chiamiamo le promozioni sì potrei anche chiamare così ci sono andiamoci a vedere subito i giocatori un contratto anzi no scusate info sulla stagione info sulla stagione che è questa l'abbiamo già vista sì allora contratto allora andiamo a vedere la lista di giocatori allora qui ovviamente c'è il famoso Samuel Eto' che questa è la carta Bachelo una carta inter diciamo una finale di champion questa carta praticamente si rifà alla finale di champion del 28 maggio del 2009 partita strepitosa di Eto' in quella partita e qui la gente si è spenta per cercare di prendere Eto' ovviamente io guardando un po' in giro sui vari video come si fa su 150 pescate prendere Eto' la vedo la vedo molto molto difficile però andiamoci a vedere quali sono i giocatori noi faremo due giri eh ragazzi ve lo dico perché tanto è veramente Eto' vediamoci subito parti da 85 ma arriva avete visto a 93 come over 1,80 per 75 kg un po' leggerino 28 anni valutazione B piatti preferito il destro è la stagione diciamo una dei migliori insieme a quella dell'Inter ovviamente lui può giocare da tutte le parti dall'attacco e 31 livelli di miglioramento ma se non sbaglio nella presentazione arrivava fino alla a 93 punti allora come stats ovviamente l'attacco si evidenza la finalizzazione e il comportamento offensivo che sono discreti anzi diciamo che la finalizzazione è più che discreta sufficiente è più che sufficiente il controllo parla la draibling i passaggi non sono il suo forte così come il colpo di testa anche se è un metro e ottanta ma il tiro a giro è sufficiente appena sufficiente per quanto riguarda gli stats difensi non si guardano nemmeno per quanto riguarda la forza 86 la velocità l'accelerazione 85 e la resistenza 78 sono i suoi punti di forza poi ottima diciamo ottima più che sufficiente appena il tiro e il salto ovviamente controllo corpo e contatto fisico controllo corpo sinceramente gli dava qualcosa di più però il contatto fisico 63 effettivamente è leggerino vediamoci la visuale di Samuel Leto ecco qui non è graficamente molto somigliante devo essere sincero poi ci sono Victor Bahia portiere della della squadra del Barcellona nella stagione 96-97 un portiere difensivo cosa che non abbiamo poi De Jong l'abbiamo mi sembra preso poi ci sono tanti giocatori del cambiato spagnolo Xavi altro giocatore che come centrompista non vedo più un mediano ma è un buon centrompista le stats dell'attacco per quanto riguarda soprattutto i passaggi dribbling sono tutti abbondantemente super la sufficienza sono discreti addirittura il possesso stretto quindi nello stretto è quasi all'ottimo perché 87 si avvicina molto a quel valore 90 qui io associo il termine ottimo controllo corpo 80 ovviamente il contatto fisico pesa 67 kg ragazzi se volete comunque c'ha 32 livelli di miglioramento sono curioso di vedere dove arriva vediamolo subito dove arriva allora vediamo che 98 eto 96 Xavi e Victor Bahia per quanto riguarda lui 95 quindi 98 ragazzi io sarei molto curioso di vedere un Haaland una coppia da Haaland che è forte e fisicamente regge il mondo con uno sgusciante to anche se nel mio club per chi segue il canale magari si ricorda qualche partito che ho fatto c'è il buon samaritano vi dico io c'è il mappè nelle due sue versioni quindi andiamoci a vedere poi chi c'è qui il worldwide boom del 16 di marzo un giocatore 100 dollari vedi tutti ci sono giocatori misti un po' misti Pavard Rafinha velocissimo sulla destra non hanno ovviamente e poi c'è Rahami come difensore centrale ce l'abbiamo già Flippong può giocare anche come terzino qui lo danno come carta esterno esterno diciamo basso d'attacco però Flippong è un ottimo terzino destro Trossard un buon attaccante tutti con 5 stelle 11 e Sirigu c'è anche il portiere Sirigu del Torino scusate la squadra Torino questo perché non è Napoli che squadra è non si apisce e Torino gioca nel Torino no ora io mi sono un po' perso tra Napoli e Torino però insomma Sirigu è sempre un buon giocatore tutti giocatori che ovviamente non hanno possibilità di migliorare player skill le chiamano qui quindi ma comunque sinceramente poi i classic quindi il derby chiamiamolo derby cioè il big match della Spagna cioè Bachelona contro il il Real Madrid e anche qui sono diciamo possiamo fare tre pescate su otto Valverde e Benzema e e poi Rudiger e Rodrigo sono i quattro giocatori possibili pescaggi del Real Madrid Raio Lewandowski Ansufati e Testegen sono i quattro giocatori candidati a essere pescati sono curioso sarei curioso perché Lewandowski ce l'abbiamo di già la carta speciale se non sbaglio abbiamo Lewandowski carta però a Bayer di Monaco quindi è un po' vecchiotta però lui Benzema ragazzi è uno dei giocatori che a me piace tantissimo su tutti i giochi di calcio e anche nella concorrenza è un giocatore sottovalutato o perlomeno tanti non usano perché non ha la velocità come le sue stats ovviamente principe infatti è che qui la velocità è 70 accelerazione è 69 quindi non è un giocatore che usa diciamo come caratteristica principale la velocità poi ha 35 anni ma ragazzi peso 81 kg contatto fisico 73 credevo un pochino di più però ha diciamo come comportamento offensivo e come finalizzazione 83 quindi questi sono stats che magari non rispecchiano in pieno non rispecchiano in pieno il pallone d'oro Benzema però Karim secondo me in una squadra fa sempre comodo ora ovviamente si sta diciamo sta arrivando un po' al tramonto lui Giroud sono stati due grandi calciatori che per certi versi Giroud meno ovviamente Benzema sono stati soprattutto diciamo Benzema un po' sottovalutati ma sono sempre degli ottimi elementi però anche qui non mi interessa molto la pescata devo essere sincero Derby Roma-Lazio anche qui ci abbiamo Ciruzzo Immobile 94 ci abbiamo Pellegrini in trequartista Di Balino Di Balino però versione Roma noi abbiamo sempre la versione Juventus Romagnoli Luis Alberto Abram e El Chaua El Chaua vediamoli tutti se ne può pescare al solito tre su quattro anche questo è un Derby che ci sarà che c'è stato le settimane quindi non mi ricordo se stava domenica ora io sinceramente sto recitando prima di domenica come sapete come sapete come vi ho detto anche nel week di ieri proprio se non l'avete visto dateci un occhietto perché è stato molto simpatico ringrazio tutti quelli che l'hanno visto quindi la fotografia di El Chaua con quel ciuffo un po' ammainato è un po' buffo è un po' buffo e poi ci abbiamo English Marzo quindi questo qui c'è tutti i giocatori della Lega Inglese dell'Italia quindi quei soliti 54 giorni e poi della Spagna quelli l'abbiamo già visto nella settimana scorsa poi qui abbiamo Pesca Limitata un giocatore del Football Champion quindi della Champions sostanzialmente e De Gea Ordega Kimmich Dembélé Diaz non è che siano grandi giocatori o meglio ci sono grandi giocatori ma i valori sono talmente bassi che ovviamente non ci vorrei spendere niente io ragazzi andrò a fare giusto così due si può dire sculate forse sì per vedere se si prende Tom a cosa veramente impossibile però sarebbe veramente un ottimo giocatore vediamo se si prende qualcosa di buono ovviamente no un 4 stealth normale Kimm allora oh Depay 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 un buon attaccante anche lui non molto considerato però è un giocatore che ha ovviamente è la carta base 79 però è un giocatore che a mio avviso ho maxato nei punti giusti ora magari vediamo vedete le stats d'attacco sono tutte sufficienti alcune più che sufficienti tipo dribbling ma anche la forza qui abbiamo 29 livelli questo ragazzi secondo me può diventare tranquillamente una carta che si avvicina molto a 90 ovviamente il contropede veloce è 60 quindi dovendo toccare un po' qualora volessi maxarlo perché io gioco il contropede veloce quindi per evitare di abbassare il range poi della forza della squadra toccando il contropede veloce mi dovrei mangiare qualche livello e quindi magari qualche stats però vedete di base sia in attacco che in forza a parte il salto ma perché è un metro e 76 quindi anche colpo di testa vedete 59 è logico che sia così però vediamocelo non non è malaccio ecco quindi è un giocatore che con un po' di valutazione con un po' di diciamo di allenamento può diventare un buon giocatore comunque attaccanti di rientro e vediamoci l'altra facciamoci un altro giro ma ripeto io penso sculate sui football ma in generale sui giochi di calcio in pescate mai mai avuto piacere addirittura si è peggiorato tre stelle peggiorato questo chi è Victor Bellerin Victor Bellerin dovrebbe essere lui oh che occhi Victor io ne ho solo uno adesso poi Bellerin è un terzino no ma non è Bellerin Victor Ruins quasi dall'occhio azzurro io c'ho la barbettina baffetti tipo Zorro difensore centrale ma vediamo un po' le sue stats si comportamento difensivo c'è qualcosa ma vedete noi difese siamo messi decisamente meglio quindi va bene così niente di che ragazzi io farei un'altra dai un giocatore ma dammene uno a modo magari uno ti dio mia e niente via ragazzi non è cosa nostra sculare una leggenda che ho visto tra le altre cose anche dei gruppi di pezzi normali che troverete questo video 4 stelle meno male guarda che cosa dicevo troverete condiviso questo video e che diversi a 1 barra 2 i giri beccano subito le volte quindi il culo il culo ragazzi fa da padrone una cosa che ovviamente per il sottoscritto non è così questo è molina un tensino destro carta base 75 niente di che ovviamente e quindi niente di che ragazzi perché c'è velocità però difensiva e stats non c'ha veramente niente questo veramente può fare tutta la fascia a destra può anche essere gioca possiamo trovarlo anche sulla sinistra questo anche se un 4 stelle ragazzi opzioni giocatori svincola perché non ci interessa non ci interessa perché ahimè facciamole un altro tanto ormai abbiamo un po' se tante volte un po' di fortuna e voi dite sempre sì sì o gli altri sinceramente mi interessano giusto forse mi potrebbe interessare i binzi ma beccasse però qui queste stelle ragazzi niente niente da fare niente da dire chi è questo Espino ancora peggio Espino la grafica ragazzi a me piace tantissimo a quello che non mi piace di football ad esempio sembra bellerino invece Espino quello che non piace di football ad esempio il campo il campo ragazzi scendere dalle scivolate sembra finto proprio un campo sintetico dovrebbero un po' non migliorare anche lui si saluta e si svincola ok allora siccome ci abbiamo poco 270 allora andiamoci a prendere perché qui si è forte rischio per prendere benze ma cosa che molto probabilmente c'è forte rischio di prendere qualche troiaio oppure qualche doppione perché Rudiger abbiamo già bello e preso però ragazzi noi finiamo i nostri crediti qui tanto non si scioppa più non si è mai scioppa chi sarà sicuramente il ciclo e stelle però io non vorrei non vorrei non vorrei non vorrei ma lo è ovviamente eh tanto Real Madrid Rudiger no Rodrigo Rodrigo non ce l'abbiamo non è che mi fa diventare matto Rodrigo però è un giocatore velocissimo è diciamo è il fratello povero di sulla destra di ora mi viene altro giocatore brasiliano del Real Madrid non ha le stazze ovviamente dell'altro però vedete ragazzi allora qui 25 livelli di miglioramento qui velocità l'accelerazione sono i suoi punti forza ovviamente il contatto fisico è salto ma no perché è 64 kg e quindi è un metro e 74 qui non è però controllo corpo ce l'ha e la finalizzazione dribbling questo è un taglio al centro può giocare a destra a sinistra può fare anche trequartista può fare la punta è un bel giocatorino insomma meglio è nulla marito vecchio mi dice quello ecco l'ultima pescata tanto poi verrebbe prendiamo un giocatore italiano o della Lazio o della Roma tanto noi qui siamo a Serbia a parte Di Bala che non lo vorrei sinceramente anche perché non mi piace moltissimo Di Balino non mi piace l'ho trovato più volte l'ho provato più volte ma voglio vedere se magari tante volte dovesse venire fuori Di Bala ci sarà la possibilità di avere un giocatore un po' diverso invece della Lazio lui serve c'è una pista che a noi ci serve per niente sostanzialmente lo possiamo provare anche qui graficamente Luisa Alberto è molto molto simile molto simile Luisa Alberto 81 centrocampista è un centrocampista vediamo un po' che centrocampista è un centrocampista un classico numero 10 addirittura può giocare anche a sinistra è addirittura di punta di punta a parte il buon Sardi lo fa giocare 25 e 25 livelli di miglioramento le stats ovviamente sono quelle attacco controllo palla il dribbling così come i passaggi alto e basso e il tiro a giro stranamente i calci dal freno sono appena sufficienti però sarà un buon tiro a giro poi la finalizzazione non ce l'ha e questo ragazzi non ce l'ha questo secondo me con i 25 livelli può arrivare a essere un buon centrocampista si supera sicuramente i 90 anche se ripeto a livello centrocampo noi siamo più che coperti con i vari personaggi che bazzicano ok ragazzi noi abbiamo finito le monete quindi finiti i soldi 70 monete finiti i soldi finite le gioie io direi di salutarci qui per quanto riguarda la parte delle partite e ci sono sempre le soldi a parte il campionato che riprenderemo c'è appunto quelle che vi avevo già un pochino a parte l'Europa Club e il Spanish League ma che vi avevo già detto anche se ovviamente qui c'è l'accordo al buio che squadra di giocatori spagnoli 30.000 mille punti con 3.000 punti vai a l'accordo al buio contro il computer insomma non è poi difficilissimo ottenere diciamo GP e accordi con eFultub quest'anno così come l'anno scorso eFultub da quel punto di vista lì agevola un pochino se tu ci giochi tutti i giorni agevola un pochino aspettiamo magari tempi migliori in cui magari ci darà un po' più di possibilità per poter giocare a questo gioco magari migliorandolo anche dal punto di vista grafico e nonché delle modalità grafico io intendo non tanto il movimento dei giocatori che è già dal mio punto di vista forse anche migliore rispetto a FIFA ma dal punto del contorno a cominciare anche dal campo dagli spettatori certe ripetitive scene oggettivamente alla lunga poi vengono un pochino a noi io ragazzi vi saluto vi do appuntamento a tutti i video che la settimana prossima quelli che potrò ovviamente registrare posterò e niente per quanto riguarda il football ci ritorniamo domenica prossima magari con una partita vediamo un attimino se riesco a registrare qualcosa e io vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi appuntamenti appuntamento prossimo appuntamento comunque avete capito ciao ciao